Old Lady, la maxibomba sganciata su Vicenza durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata disinnescata alle 15.07. A quell'ora il capitano Salvatore Toscano, l'ufficiale che ha coordinato le operazioni di inertizzazione dell'ordigno bellico, ha dichiarato che la vecchia signora non era più pericolosa. Così, però, non è stata per tutti questi anni in cui è rimasta sepolta nel campo dell'area dell'ex aeroporto del Molin. La bomba, pare per pura fortuna, non si è esplosa in questo lungo periodo. Una delle tre spolette, infatti, è stata trovata a pochi millimetri dal detonatore. Solo una sollecitazione più intensa del normale avrebbe potuto farla brillare. Considerando la potenza distruttrice dell'ordigno, capace di radere al suolo un intero quartiere, c'è da attirare più di un sospiro di sollievo. Una volta disattivate le tre spolette, la bomba è stata svuotata e portata a bordo di un camion nella cava di Orgiano, dove l'esplosivo è stato addormentato con getti idrisci ad una specifica pressione. Un procedimento studiato per mesi dagli artificieri del Regimento Guestatore di Trento, che hanno analizzato nel minimo dettaglio la bomba, proprio conoscendone la potenziale pericolosità. Si è trattato di un disinesco più complicato del solito, proprio per le norme mole dell'ordigno e la presenza delle tre spolette. Old Lady era stata rinvenuta un anno fa nel campo dove si sta realizzando un parco a ridosso della nuova base americana dal Molin. Nella discesa verde, oltre alla maxibomba, gli uomini dell'esercito hanno provveduto a neutralizzare altri 130 ordini. Quest'area, dove sorgeva durante la Seconda Guerra Mondiale l'aeroporto, è stato oggetto di bombardamenti insistenti da parte delle forze alleate. Un disinesco molto articolato che ha imposto l'evacuazione di 27.000 persone, metà della popolazione della città berica, oltre gli abitanti di Costa Bissara e Caldogno. L'evacuazione iniziata alle 7 e alle 8.30 erano tutti oltre l'area rossa. Tutti tra l'uomo che alle 11.30 si è svegliato e ha chiamato il 113. La sua presenza ha imposto lo stop per mezz'ora delle operazioni, il tempo per le forze dell'ordine di recuperarlo e portarlo in questura, dove ora rischia una denuncia pelale. E passeranno dei guai anche due automobilisti individuati all'interno della zona off limits alla guida delle proprie autovetture. Sono stati identificati dal sistema di droni e attivato per monitorare dall'alto l'intero territorio interessato dall'emergenza. Alla fine della giornata, in anticipo rispetto ai tempi previsti, è stato dichiarato il cessato allarme e i vicentini hanno potuto rientrare nelle proprie case, anche se in molti hanno approfittato della giornata di festa baciata dal sole per rimanere all'aperto. Una sola nota triste, in una macchina organizzativa che ha funzionato e che è stata elogiata anche dal capo della protezione civile, Franco Gabrielli, che ha seguito dalla sala operativa allestita in fiera le fasi del disinnesco, la morte di un'anziana di 89 anni, diabetica, che nella notte si era aggravata e che è deceduta durante il trasporto in ospedale, proprio mentre la città si stava svuotando. Una tragica fatalità, sottolineata anche dal sindaco Achille Variati, visibilmente sollevato al termine dell'emergenza. In suo sostegno anche un tweet del premier Matteo Renzi. Sapevo che la bomba era in mani esperte, però sai, la percentuale di rischio, sia pur basso, non era inesistente. Grandi specialisti e grande collaborazione dei cittadini di Vicenza. Ci siamo tolti un brutto dente.